Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò dove trovare l'astronave in Fortnite. Oggi si è abbassato ulteriormente il livello dell'acqua, per l'ultima volta, credo. Infatti ha svelato Atlantide, che adesso si chiama temporaneamente Carl, ma dovrebbe chiamarsi Rovine, che è sulla sinistra, e ha portato alla luce l'astronave. L'astronave ha diverse sfide da portare a termine. Non so se sono disponibili da subito o arriveranno in settimana, ma ci sono diverse sfide, tipo trova l'astronave, lancia, attiva il lancio dell'astronave, cose di questo tipo qua. Comunque, come sempre, appena saranno disponibili ve le mostrerò. Eccola qui la nostra bella astronave. Si trova praticamente su Scogliere Scoscese. È apparso un isolotto qui, vedete, e c'è l'astronave abbandonata, dove sta atterrando anche questo giocatore. Quindi nella parte alta di Scogliere Scoscese trovate l'astronave. Eccolo qua. Quindi completate la sfida trovata astronave.